Il 17 novembre 2022 siamo nel municipio di San Giorgio Canavese con il sindaco Andrea Zanusso. Abbiamo il piacere di consegnare il primo dei due pannelli tattili realizzati nel progetto regionale per il rilancio del turismo accessibile dopo la pandemia. Allora signor Silvio, invitiamo a scoprire il pannello. Io vi ringrazio molto, sono molto lieto di poter scoprire insieme questo primo dei due pannelli che abbiamo l'opportunità e l'occasione di installare in San Giorgio. A te vanno proprio blindatissimo perché me lo fanno guadagnare questa apertura. Eccoci qua, eccoci qua. Questo riguarda il museo civico e antropologico d'Ossi Reis. Che abbiamo tra l'altro visitato circa un paio di mesi fa e l'abbiamo trovato veramente molto molto interessante. Qui abbiamo la riproduzione tattile, poi la scritta in alfabeto Brian e a caratteri per i povedenti. Qui in basso abbiamo il QR code che inquadrandolo con uno smartphone fa partire l'audio guida che descrive. Quindi è un pannello pienamente accessibile per tutti. Wow, bellissimo, veramente bello. Grazie al Comune di aver aderito al nostro progetto e speriamo di poterci ritrovare presto con le nuove iniziative. Grazie per averci invitati, siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa. Adesso andiamo subito a installarlo. Grazie.